Non solo PD, anche SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, si accinge a svolgere le primarie per la scelta dei candidati alla Camera e al Senato per la lista capeggiata da Nichi Vendola. Le primarie di SEL coinvolgeranno due agrigentini, Giovanna Triassi per la Camera e Lillo Alaimo di Loro per il Senato. Entrambi sono inseriti in una lista di più nomi con i candidati di altre province. Giovanna Triassi è presidente del circolo SEL di Sciacca, mentre Lillo Alaimo di Loro è stato da sempre un attivista verde ed ambientalista. Le primarie di SEL coinvolgeranno ancora una volta l'elettorato riformista e progressista italiano che numerosissimo ha già partecipato a quelle del 25 novembre scorso e che ora sarà chiamato il 30 dicembre a scegliere i propri candidati al Parlamento nazionale. Gli attivisti di sinistra saranno impegnati quindi solo domenica prossima per le primarie, mentre il Partito Democratico ha scelto anche la giornata di domani, sabato 29 dicembre. Mentre il PD avrà i seggi aperti in tutti i comuni della provincia, SEL concentrerà gli uffici elettorali in alcuni centri. Ad esempio ad Agrigento voteranno anche gli elettori dei comuni vicini come Raffadali, Aragona, Favara e Sciacca, invece voteranno quelli di Caltabellotta. Altro seggio a Menfi e Cammarata per la zona montana, poi a Canigattia e Licata. Si voterà dalle 8 alle 20 di domenica. Nonostante i tempi strettissimi dovuti alla fine incresciosa anticipata della legislatura parlamentare, il nostro partito scrive in una nota il coordinatore del circolo SEL di Sciacca, Renato Modica, assieme a tutta la coalizione di Italia Benecomune, marca ancora una volta la differenza tra la propria buona politica e il resto del panorama italiano.